UFO, UFO, avvistato un UFO, il Pentagono afferma che il video è autentico, cioè da una nave dei marinai hanno visto un oggetto non identificato a forma di piramide, hanno girato un video e il Pentagono afferma che il video è autentico, ma leggiamo di che si tratta, leggiamo di che si tratta, ecco, UFO a forma di piramide sorvola una nave americana, il Pentagono conferma l'autenticità del video. Nel luglio del 2019 i membri dell'equipaggio di una nave da guerra della marina statunitense filmarono il solo volo di uno strano oggetto volante dalla forma piramidale. Il pentavoce e il Pentagono ha definito autentico il video e quindi si tratta di un video, il video è autentico, un filmato che ritrae uno strano oggetto volante a forma di piramide con le luci accese mentre sorvola una nave americana, è stato definito autentico dal Pentagono. Bene, molto bene, poi l'articolo continua, continua l'articolo, sempre confermando l'autenticità di questo video e ne conferma l'autenticità e ne hanno parlato tutti, proprio un video autentico. Nel 2019 la marina militare statunitense annunciò per la prima volta che si trattava di video autentici. Ora sono balzati agli onori della cronaca internazionale nuovi video e immagini di oggetti misteriosi da cui autenticità è stata certificata dal Pentagono. Il più affascinante è indubbiamente il video relativo all'oggetto piramidale. Ecco, si continua, si continua, l'articolo è molto dettagliato, molto dettagliato, ecco qua si continua, è un articolo molto dettagliato, con molti particolari. e poi però nell'antica Roma gli diceva in cauda venenum, in cauda venenum, vediamo qual è il veneno che sta nella coda. In parole semplici quegli oggetti, è sempre il Pentagono che parla, in parole semplici quegli oggetti potrebbero essere benissimo dei droni militari controllati dagli stessi militari americani oppure potrebbero essere vedivoli dei paesi nemici. Una ipotesi molto più plausibile degli UFO inviati dallo spazio da civiltà aliene per controllarci, in cauda venenum. C'è un articolone dove ci dice che il Pentagono certifica l'autenticità di un video. Sì però poi in fondo si scrive in parole semplici, quegli oggetti potrebbero essere benissimo dei droni militari controllati dagli stessi militari americani eccetera eccetera eccetera. Va bene cari amici? Nell'antica Roma si diceva in cauda venenum, cioè nella parte finale dell'articolo relativo a questi UFO si dice che in pratica il Pentagono dice che è più realistico ipotizzare che si tratti di apparecchi militari. Ecco cari amici io vi lascio l'articolo molto dettagliato, però lascio come link nel riassunto di questo video e fate voi le vostre personali considerazioni. Sì è una delusione, è una delusione. L'articolo inizia dicendo che il Pentagono conferma l'autenticità del video. Il video è autentico e però non è autentico quello che è contenuto nel video, capito cari amici, per cui come al solito la cosa migliore è quella di leggere questa opera, la stilpe del serpente che vi spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Ok cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.